Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale, oggi la dedichiamo alle azioni proposte dalle istituzioni gelesi Al fine di arginare il fenomeno della disoccupazione dilagante è istituito un gruppo di lavoro aperto anche agli imprenditori La grave crisi occupazionale che si registra a Gela deve essere monitorata con costanza al fine di giungere ad una soluzione immediata Non c'è più tempo da perdere, lo dice il Presidente del Consiglio Comunale Alessandrasia Le istituzioni devono fare la propria parte ed è importante confrontarsi Ed è per questo motivo, dice il Presidente della Sisa Civica, promuovere incontri, tavoli tematici con gruppi di lavoro specifici Il Consiglio Comunale per questo recentemente ha voluto fortemente la costituzione di un gruppo di lavoro Al quale fanno parte tutti i consiglieri capigruppo del Consiglio Comunale Che vede presente anche l'amministrazione Questo è un momento epocale molto importante per la nostra città Perché sono in arrivo e siamo in attesa dei finanziamenti per il nostro territorio Come appunto il Patto per il Sud, lo stesso protocollo di intesa ancora da attuare E le stesse compensazioni minerali Per questo motivo è stato creato questo gruppo di lavoro tematico Che vedrà i consiglieri comunali che terranno in maniera molto stretta l'amministrazione Per avere informazioni sempre più aggiornate Per dare risposta a questo territorio martoriato Da una massiccia disoccupazione Che purtroppo vede coinvolti non solo i giovani In cerca di lavoro e quindi di creare il loro futuro Ma anche padri di famiglia che devono fare i conti con le spese familiari E al tavolo parteciperanno anche gli operai che hanno perduto il posto di lavoro? No, per quanto riguarda invece gli operai Nello scorso Consiglio Comunale una massiccia rappresentanza dei lavoratori È stata presente in Consiglio Dove ha chiesto ad alta voce quella che è la costituzione di un tavolo Dedicato a loro e dedicato appunto alle problematiche che riguardano i lavori dell'indotto Questa attualmente è inserita all'ordine del giorno nel prossimo Consiglio Comunale Riguarda delle mozioni E insomma faremo i conti con questa mozione Quindi la creazione di un ulteriore tavolo Un tavolo aperto anche agli imprenditori Attualmente vede coinvolti i capi gruppo e l'amministrazione Oggi abbiamo permesso l'ingresso anche all'Associazione Nazionale Costruttori di Edili Che con molto piacere devo dire ci ha inviato una nota Dove ci ringraziava il Consiglio Comunale Per questa lodevole iniziativa e ha chiesto di partecipare Quindi abbiamo visto il loro ingresso E colgo anche l'occasione per fare un appello A tutti i rappresentanti dei lavoratori O dei lavoratori di lavoro e quindi altre associazioni e organizzazioni Che se vogliono appunto entrare a far parte di questo gruppo di lavoro E dare il loro contributo Per noi sicuramente è un arricchimento importante Perché è necessario in questa fase Quello che è un coordinamento di tutte le risorse presenti nel nostro territorio La pagina della cronaca nera ancora attentati incendiari a Gela La scorsa notte sono state date alle fiamme due auto Che erano in sosta in via La Paz nel quartiere Scavone Ed in piazza Trento in quest'ultimo episodio È stata presa di mira una Mercedes appartenente ad una società Ma in uso ad una donna titolare di una pizzeria Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco Sui due episodi indagano polizia e carabinieri Gravi disagi oggi nella scuola Antonietta Aldisio di via Feace a Gela Mani ignote hanno rotto un termosifone Provocando il conseguente allagamento Sospese alcune lezioni Le temperature rigide degli ultimi giorni in città Hanno provocato gravi disagi soprattutto nelle scuole In alcuni istituti infatti i termosifoni non funzionano E si sta correndo ai ripari Alunni e docenti si presentano indossando i cappotti Ed in quelle scuole invece dove i termosifoni funzionano C'è qualcuno che ha pensato bene, anzi male, di danneggiarli E' quanto accaduto nella scuola Antonietta Aldisio di via Feace Sconosciuti hanno danneggiato un tubo del calorifero Con conseguente allagamento di un'aula e dell'intero corridoio Al primo piano dell'edificio Secondo quando mi dicono i tecnici stamattina Qualcuno in un'ala dell'edificio che è stata data da qualche anno all'Anfe Dove si tengono corsi professionali Ha rotto un tubo, ritengo, dei termosifoni Per cui l'acqua che fu riuscita ha allagato Non solo tutto il corridoio del primo piano Ma anche quello del piano rialzato che investe la scuola dell'Invanzia Che stamattina non sta funzionando Per la d'abbenaggine di qualcuno Ecco, cos'è l'Anfe? L'Anfe è un'associazione nazionale di formazione professionale Negli anni passati, io sono qui reggente del primo settembre Sono stati dati dei locali liberi a questa associazione E qui si tengono dei corsi professionali di parrucchiere Di estetista e cose del genere Anche questi ragazzi stamattina non sono potuti entrare Ma cosa spinge chiunque a comportarsi in questo modo Provocando un serio danno alle attività scolastiche? Qualcuno che l'unico vantaggio che può ricavare È che l'indomani a scuola non ci va Io non vedo altre ipotesi interpretative di questo gesto Oppure può essere stato il gesto di un vandalo E i vandali spesso agiscono senza un fine né immediato né immediato E questo ha provocato un danno anche economico Perché ci sarà da spiandare dei soldi? Certo, infatti Ma a parte il fatto che stamattina alle 7 Il primo collaboratore scolastico che è arrivato a scuola Mi ha telefonato e mi ha costretto L'ho fatto con piacere Ma avrei preferito che la cosa non si fosse verificata Ho chiamato i vertici dei lavori pubblici E di Ghelas che devo dire sono stati assolutamente solleciti Tant'è vero che li avete visti all'opera e sono venuti subito E intanto in merito all'ondata di gelo che interessa anche la nostra città Ci si muove per chiedere lo stato di calamità naturale Per i gravi danni che si sono verificati nelle campagne Attivare tutte le procedure d'urgenza per dichiarare lo stato di calamità naturale Per gli agricoltori della provincia di Caltanissetta Per i danni subiti a causa della copiosa neve caduta nei giorni scorsi E la richiesta del deputato regionale di Forza Etaria Il gelese Pino Federico In un ordine del giorno presentato all'Assemblea regionale siciliana Il moltempo e le violente grandinate nevicate di questi giorni Dice Federico Hanno causato ingenni danni all'agricoltura della Sicilia E della provincia di Caltanissetta Distruggendo totalmente sia le coltivazioni a campo aperto Che le attività sericole In particolare nella piena di Gela e Niscemi Dove insiste una delle più vaste coltivazioni di carciofeti d'Italia Andata interamente distrutta dalle gelate L'enorme criticità in cui si è venuto a trovare tutto il territorio nisseno Rimarca il deputato forzista Ha messo in ginocchio il comparto agricolo Già in sofferenza per la grave crisi economica Che attanaglia il settore agricolo già da diversi anni Intanto è disponibile anche online Sul sito del comune di Gela Il modello per la segnalazione dei danni causati dalle ultime gelate Sulle produzioni agricole della piana Lo comunica l'assessore allo sviluppo economico Simone Siciliano La segnalazione in duplicato è corredata dalla coppia di un valido Documento di riconoscimento Va inviata all'ufficio intercomunale agricoltura del comprensorio di Gela O all'ispettorato dell'agricoltura di Caltanissetta Possono istruire alla pratica i soggetti in qualità di proprietari Con proprietari Usi fruttuari Affettuari Legali rappresentanti O con un altro titolo Indicando se singoli o associati E la forma associativa Va inoltre legato il foglio di mappa Con le particelle raggruppate Per le stesse coltivazioni Per maggiori dettagli Gli interessanti possono rivolgersi all'ufficio agricoltura del comune Al secondo piano dell'edificio di Viale Mediterraneo C'è anche un recapito telefonico 0933 906 129 La pagina della politica Simone Morgana è stato nominato capogruppo del Movimento 5 Stelle Al Consiglio Comunale di Gela Prende il posto di Enzo Giudice La decisione è stata adottata nel rispetto del principio di rotazione annuale Che il gruppo consigliare dei grillini si è dato Con riferimento al ruolo di capogruppo nell'assise civica Il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle Risulta composto da Enzo Giudice Virginia Farruggia Angelo Amato E Simone Morgana Si è insediato il nuovo consiglio dell'ordine dei commercialisti Per il mandato 2017-2020 Il Presidente è Giuseppe Giudice Vice Presidente Gabriella Sanfilippo Segretario Giuseppe Nicoletti Tesoriere Mariangela Faraci I consiglieri sono Giacomo Gulizi e Massimiliano Tuccio Il nuovo consiglio nel segno della continuità del precedente Si prefigge in particolare di dedicare attenzione Oltre che ai compiti istituzionali della formazione ed aggiornamento professionale E della deontologia Anche ai problemi del territorio In questo momento di particolare crisi E di cambiamento di equilibri economico-sociali Senza precedenti Il nuovo consiglio vuole contribuire e collaborare Con le altre forze istituzionali Alla ricerca di soluzioni di politica economica Per risolvere i problemi dell'occupazione locale E delle imprese del territorio In uno scenario di concrete aspettative Di sviluppo economico della collettività locale Miguel Vancuso A Gera ultimamente è stata avviata un'iniziativa Per compattare il centrodestra Un centrodestra compatto per arrivare a cosa? Ma intanto è ingommiabile il lavoro che sta facendo il commissario cittadino L'onorevole Federico E i dirigenti del direttivo provinciale Appunto Carfir, Inzivillo E non ultimo nei prossimi giorni Ci sarà l'ufficializzazione anche di Eugenio Catania Io credo che il centrodestra a Gela Abbia la necessità di combattarsi Per esprimere una politica appunto in linea Con quello che è il pensiero del centrodestra in generale Certamente il nostro interesse è quello di una forza Italia Sempre più presente Sempre più a disposizione Sempre più vicina alla gente Per cui diciamo che Il progetto di un centrodestra unito È compatibile con un ragionamento generale Ma per quello che noi concerne E ci interessa appunto è lavorare per la nostra forza Italia Dove devo dire ci sono delle adesioni importanti E grande partecipazione Cosa contestate all'amministrazione comunale messinese? Ma io credo che l'amministrazione comunale Debba rendersi conto di una cosa Che amministra la città più importante della provincia Io penso che non appena si renderà conto di questo Capirà quanto sia importante impegnarsi Ad essere presente tra la gente E risolvere problemi gravissimi Soprattutto dal punto di vista occupazionale Di cui nei prossimi mesi noi ci attiveremo Anche con delle manifestazioni importantissime C'è un problema che riguarda l'occupazione Cioè in merito alla chiusura dello stabilimento Forza Italia quali progetti ha Per arginare questo problema? Forza Italia Dicevo appunto questo Forza Italia sta organizzando Un convegno di portata nazionale Attraverso anche delle serie sindacali Che saranno presenti nei prossimi giorni E nelle prossime settimane Stabiliremo la data Dove coinvolgeremo attraverso le parti sociali Tutti quelli che sono gli attori principali A cominciare dall'amministrazione comunale Appunto per affrontare questa tematica Dell'ENI Che non può continuare ad essere Una favola infinita E che deve trovare assolutamente una soluzione Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi A conoscenza di quello che accade a Gela Ci vediamo proprio alla chiusura dello stabilimento Cosa vi ha detto? Io credo che l'importanza di Gela Sia appunto da portare anche al tavolo Del presidente Berlusconi Proprio perché ha vissuto sempre da vicino Questa problematica Come ogni venerdì torna domani in piazza Roma A filiera corta Sono aperte le iscrizioni per l'anno 2017 Alla pubblica assistenza Procivis Protezione civile di Gela Le elezioni cominceranno mercoledì 1 febbraio Alle 19.30 E si terranno presso la sala riunioni Della Procivis Per iscrizioni ed ulteriori informazioni È possibile recarsi dal 16 al 31 gennaio Presso la sede operativa in via Ossidiana 23 C'è anche un numero telefonico 0 933 93 83 12 Fai la cosa giusta Differenzi ai rifiuti Mantieni il decoro urbano della nostra città Oggi giovedì dalle 22 alle 5 Depositare davanti alla propria abitazione Il vetro nella pattumiera di colore verde in dotazione Cosa conferire? Bottiglie prive di tappi Fiaschi senza paglia Barattoli e vasetti Bicchiere e brocche Solo se in vetro, non cristallo Vetri vari anche se rotti Contenitori vari in vetro per alimenti e non Senza tappi e o altri materiali diversi Depositare davanti alla propria abitazione L'organico all'interno del sacchetto compostabile Cosa conferire? Avanzi di cibo Piccoli ossi Scarti di cucina di frutta e di verdura Formaggi e salumi Avanzi di pane Alimenti avariati e scaduti Fonde di caffè Filtri di tè e camomilla Sfalci Piccole potature Fiori recisi E piante domestiche Senza terra e senza vaso Pezzetti di legno Paglia Segatura Ceneri spente di camini Tovaglioli di carta unti Carta assorbente usata Escrementi Piume Peli E lettiere Di piccoli animali domestici Un ambiente pulito e sano Basta un piccolo gesto Siamo ritornati Seconda parte del telegiornale Domani appuntamento con la notte dei licei classici alle 17.30 all'Eschilo E' previsto un incontro con i genitori e gli alunni delle terze medie Subito dopo ci saranno dei momenti musicali, teatrali e di intrattenimento a cura dei liceali Dalle 21 a mezzanotte musica da discoteca E continuano gli appuntamenti inseriti nell'83 stagione concertistica gelese promossa dall'Associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra Domenica 15 gennaio alle 19 nei locali del Palazzo Pignatelli Roviano Si trarà il concerto pianistico a quattro mani con Calogero Lupo e Giuseppe Francolino Stenta ancora a decollare la raccolta differenziata in città Mentre nel vicino comune di San Cataldo la percentuale nel mese di dicembre è stata del 47,78% A Caltanissetta nello stesso mese è stata del 13,62% Un dato che si attesta alla media regionale come fotografato dall'ultimo rapporto sui rifiuti urbani dell'ISPRA L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale Tra il 2014 e il 2015 la raccolta differenziata siciliana è infatti passata dal 12,5% al 12,8% Secondo i dati forniti da Caltambiente la raccolta differenziata in città nell'ultimo triennio è incrementata di 5 punti percentuali Passando dal 7,8% nel 2014 all'8,3% nel 2015 sino al 13,62% nell'ultimo anno Una percentuale ben lontana dal 65% imposta dalla legge nazionale Nonostante il piano di emergenza portato avanti in questi mesi dall'amministrazione comunale A seguito dell'ordinanza numero 5 del 7 giugno del 2016 della regione siciliana Che ha imposto ai comuni dell'isola di ridurre drasticamente il conferimento in discarica Rimane molto da fare malgrado la campagna di sensibilizzazione avviata dal comune L'utilizzo di cartelli affissi nei cassonetti per spiegare meglio ai cittadini come differenziare E l'uso di telecamere per sanzionare chi conferisce al di fuori dai orari prestabiliti Intanto con l'aggiudicazione della gara ponte che servirà a coprire il servizio per un anno Rinnovabile per altri sei mesi Il cui iter è partito nelle scorse ore con l'apertura delle buste presentate solo da due ditte Sarà avviato il porta a porta al momento attuato sulla Santa Barbara anche nel centro storico della città Con l'aggiudicazione del piano aro la cui gara è al momento all'urega E che servirà a gestire la raccolta dei rifiuti solidi urbani per sette anni Si punterà a dare un'impennata alla differenziata Ma soprattutto ci sarà un cambiamento radicale che porterà alla tariffazione puntuale Ovvero ogni cittadino sarà individuato attraverso il codice fiscale o con delle card specifiche E si registrerà la quantità e la qualità di rifiuto differenziato Per il 50% della popolazione si procederà con il porta a porta Per la restante parte saranno realizzate otto isole ecologiche di tipo intelligente Per carta e cartone, vetro e plastica Che consentiranno all'utente di registrare i conferimenti Mentre per l'umido saranno posizionati degli appositi cassonetti Sempre di tipo intelligente nel resto della città Omini, mezzi, omini, uminicchi e quacora qua Il titolo di un libro scritto da Antonio Scandrello E che verrà presentato domani alle 17 Nei locali della biblioteca comunale in via Butera a Gela Relazionerà Biagio Pardo Alla presentazione interverranno tra gli altri Angelo Fasulo, ex sindaco di Gela Patrizia Zanone L'assessore comunale Francesco Sarimitro E il sindaco Domenico Messinese Ed è prevista per venerdì 20 gennaio alle 17 Nella sala conferenze del liceo scientifico Elio Vittorini di Gela La presentazione del libro di Sebastiano Tusa Primo Mediterraneo L'iniziativa è della libreria Mondadori In collaborazione con l'istituto scolastico Diretto da Angela Tuccio Dialogherà con l'autore Lella Oresti Introdurrà e modererà i lavori Lina Orlando E' previsto l'intervento del pittore Giovanni Iudice E' fuori uso da una settimana La TAC dell'ospedale Sant'Elie Secondo quanto comunicato dalla direzione sanitaria Dovrebbe riprendere a funzionare venerdì In realtà le TAC dell'ospedale sono due Ed entrambe al momento fuori uso I macchinari pari abbiano avuto lo stesso danno Contemporaneamente alla rottura di un tubo radiologico Che è stato ordinato dalla casa produttrice dell'apparecchio Tra l'altro tra i più avanzati in commercio Con una capacità di penetrazione di se stanza 4 stile E pare che arriverà dalla Francia entro fine settimana Per essere montato e mettere a reggiva nuovamente il servizio La problematica che ha investito gli apparecchi Tra i più importanti della diagnostica dell'ospedale Ha comportato notevoli disagi sia ai pazienti ricoverati Sia a quelli che giungono da tutta la provincia All'ospedale Sant'Elia per le prestazioni esterne Nel primo caso i pazienti sono stati accompagnati a San Cataldo Con l'ambulanza ed invece nel secondo caso Hanno dovuto optare per una prestazione privata a pagamento Non si contano le lamentele degli utenti Che hanno preso la notizia arrivati all'ospedale O dal centro unico di prenotazione Ovvero dal CUP Intanto altre 5 TAC dovrebbero essere in arrivo Le gare sono già state espletate Si attende che nella piattaforma Che viene utilizzata per gli acquisti Secondo la legge anticorruzione Vengano messe in vendita le TAC di 64 stile Ovvero tra le più moderne in commercio Pur di far musica Si tratta del concerto di Paolo Belli Che si trarrà oggi alle 21 Al teatro comunale Eschilo di Gela I bietti hanno un costo di 12 euro Il botteghino lo ricordiamo è aperto ogni giorno Dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20 Ci sono due recapiti telefonici 0933 911892 e 3455880580 Appuntamento con la stagione teatrale All'antidoto questa sera alle 21 E' prevista la rappresentazione Ed è il barretto a sonagli Di Luigi Pirandello Con la compagnia dei Seitta Abbiamo concluso anche per oggi Grazie per averci seguito Appuntamento alle prossime edizioni Grazie per averci seguito Grazie per averci seguito